Un boscaiolo proveniente dall'Arizona, nel 1975 pare sia stato rapito da un oggetto volante non identificato. Una settimana di reclusione e poi di nuovo tra la gente. Ma durante la sua assenza nel suo paese si è creato un grande scompiglio e quando dice di essere stato rapito da un UFO viene preso per matto. Diretto da un regista televisivo, il film ha una sua dignità spettacolare e qualche buon effetto speciale.